Grazie Francesco. Quindi come detto prima adesso possiamo parlare del programma stesso di conservazione del cervo in Corsica e dei diversi protocolli che abbiamo messo in opera. Quindi non rivengo sullo storico della reintroduzione ma tutte le date in rosso sono le 70 cervi che abbiamo liberato in Corsica nel quadro di questo progetto live, quindi 50 dei nostri recinti di allevamenti e come l'ha detto Lucio prima 15 della Sardegna catturati in natura. Quindi più di 320 cervi liberati in 20 anni di reintroduzione. Ecco la mappa che rappresenta le diverse aree di ripartizione del cervo in Corsica oggi. Quindi abbiamo 5 nuclei, uno primo più al nord, un secondo al centro, questo è sopra le montagne d'Aiaccio. Dopo c'è la parte orientale, le montagne del fiume Orbo, sino alla pianura orientale. E adesso questa popolazione da poi 5 anni è in contatto con la popolazione la più importante della Corsica, quella dell'Alta Rocca. Le stelle blu sono le recinti di allevamenti di cervi. Quindi abbiamo 58.000 ettari occupati che rappresentano 7% del territorio della Corsica. Quindi al livello dell'azione di conservazione fatta in Corsica in questo progetto LIFE, la translocazione dei cervi di Sardegna verso la Corsica, come l'ha presentato Andrea, si sono fatti da due siti sic diversi di Sardegna verso tre sic della Corsica. La popolazione al nord, la popolazione al centro, la montagna del Rotondo e la popolazione vicino a Bavella, per il settore del sudo. Quindi un esempio, una fotografia della zona del massifo di Rotondo e nel centro della Corsica, con una vegetazione molto ricca e una pendenza forte per monitorare questi animali, ma è veramente un ambiente perfetto per il nostro cervo. Ecco la mappa che rappresenta il sito di rilascio di questo sito del centro della Corsica, il punto di rilascio e in rosso l'area della SIC Natura 2000 della montagna del Rotondo. Allora in questa SIC abbiamo liberato 25 cervi nel quadro del progetto, 20 del recinto d'allevamento Dania, il recinto della pianura orientale, e 5 della Sardegna, il filmetto che avete visto prima. Quindi questo è l'arrivo in elicottero di 5 cervi catturati da Lucio e la liberazione di questi cervi lo stesso giorno. Quindi l'operazione era stata presentata prima, possiamo andare davanti. Allora dopo la liberazione di questi animali, ovviamente dobbiamo seguirli e mettere in opera diversi protocolli di monitoraggio. Noi abbiamo messo in pratica 7 protocolli diversi. Prima di tutto, una maniera per stimare la popolazione, il censimento al bramito per stimare la popolazione. Secondo protocollo, la telemetria VKF e GPS per studiare gli spostamenti e altre cose. Dopo facciamo l'osservazione in diretta sul campo e anche con l'uso di fototrappole per misurare lo statuto sanitario visivo dei cervi e anche l'occupazione del biotopo dell'ambiente di questi cervi e avere più dati sull'ecologia della nostra sottospecie. L'altro protocollo è il monitoraggio sanitario. Come l'ha presentato Lucio, anche da noi seguiamo diverse patologie, soprattutto negli ricinti di cattura, negli ricinti di allevamenti e anche quando ritroviamo cervi morti o feriti sul campo nella natura. E per quelli che sono morti facciamo l'autopsia. Allora, due altri protocolli. Abbiamo iniziato nel quadro del progetto LIFE la cattura direttamente in natura per la prima volta, ne parleremo dopo. e abbiamo messo in pratica un altro protocollo, un indicio chilometro per misurare la consistenza e il tasso di crescita della popolazione nella pianura orientale dove ci sono problemi con gli agricoltori per avere più date e più precise. Allora, prima per stimare abbiamo fatto questo modello matematico con i nostri colleghi dell'Ufficio Nazionale della Caccia che lavorano da poi tanti tanti anni sugli ungulati di montagna e hanno creato con i nostri dati dei diversi rilasci che abbiamo fatto dopo il 1998 un modello matematico con un tasso di moltiplicazione di 1.2 per stimare la popolazione. In 2017, attraverso questo modello abbiamo una stimazione per tutta la Corsica dei 5 territori una popolazione stimata a più di 2.500 cervi in natura. Quindi adesso è la corva che rappresenta la messa in pratica del censimento al bramito. Allora, la corva non è così positiva la crescita non è così positiva in natura e soprattutto noi operatori dello parco che ci siamo ammigliorati nella pratica di questo protocollo e possiamo dire che a partire dell'anno 2014 eravamo più familiari con la metoda e ci siamo avvicinati più precisamente della vera stimazione della popolazione. Quindi nell'anno 2017 abbiamo una stima tra 1.500 cervi stimati. Ecco la database un esempio dopo il trattamento dei dati del censimento fatto dopo l'anno 2017 con gli diversi dati in rapporto con la densità. Adesso un esempio dopo il trattamento sul GIS dei dati del censimento al bramito nel centro della Corsica potete vedere che come per altre zone anche in Sardegna o sul continente la densità è importante durante il bramito perché tutti i punti rossi sono lì cervi bramenti e le stelle blu sono lì operatori sul campo. Quindi è un sito particolare che permette di contare più facilmente che in altra zona il cervo perché ci sono sempre queste vale e per questo che mettiamo a tutte queste zone diversi punti per contare più facilmente i cervi bramenti. Altro protocollo come l'ho precisato prima la telemetria VHF e GPS per studiare il famoso home range l'occupazione del territorio del cielo. Quindi usiamo la telemetria VHF sulla prima fotografia e la telemetria adesso GPS. Allora questo radiocolaro vogliamo l'abbiamo programmato per avere due fix al giorno a 10 ore di mani e a 10 ore di sera. La durata della batteria è prevista per 24 mesi quindi due anni e dopo c'è un sistema di drop off che permette di recuperare il collaro sul campo. Per il momento ha funzionato bene perché abbiamo preso la settimana scorsa i tre primi radicolari che si sono staccati dopo il drop off. Quindi abbiamo due anni già di dati per tre animali. Ecco un esempio della data base fatta dopo un primo trattamento dei dati della telemetria GPS che permette di avere la superficie del territorio del cervo e già per tre siti diversi cacciagunsani al nord 12 cervi nel centro della Corsica e altre 8 cervi per la popolazione del sudo. Quindi l'importante è di mettere a confronto le dati della telemetria con una mappa di vegetazione questa mappa questa questa data e date della vegetazione sono fatte dall'ufficio dell'ambiente in Corsica e hanno fatto per tutta la Corsica del nord una mappa veramente precisa dove la precisione di diverse specie che ritroviamo quindi adesso mettiamo in confronto le date della telemetria e la vegetazione e possiamo avere precisione sull'occupazione della vegetazione di questi cervi monitorati dal radioculare GPS per esempio queste due femmine nel territorio al nord hanno un'occupazione del biotopo dell'ambiente a più del 90% nel bosco e se adesso facciamo un paragone con un settore più diverso come questa femmina al centro della Corsica possiamo vedere che c'è sempre il bosco ma di maniera più meno e un'occupazione della macchia più importante quindi dobbiamo vedere le cose tra sicchi di maniera più precisa tra le diversi territori perché forse non abbiamo la stessa occupazione quindi ecco il dettaglio che facciamo dopo entriamo più precisamente nel dettaglio per vedere che tipo di specie esattamente sono frequentate e per esempio il pino l'arriccio e l'ericarborea e la specie la formazione preferita per questa femmine per esempio quindi sono veramente nuove dati che non avevamo noi in Corsica e che aspettavamo veramente da poi molto tempo per studiare la speccia adesso possiamo trovare questi dati adesso per un maschio con una ripartizione più uguale tra il bosco l'erba e la macchia quindi anche a questo livello dobbiamo fare le differenze tra gli animali ecco un esempio della cartografia fatta dopo il trattamento sul GIS di più di un anno e mezzo per questo cervo il cervo catturato da lucio è trasportato in elicottero come l'avete visto è liberato a questa zona e occupa da poi più di un anno e mezzo più di 600 ettari di territorio mettiamo a confronto anche le date le dati d'osservazione che facciamo sul campo per esempio sempre nella zona del centro della Corsica è un'occupazione soprattutto della macchia per questi cervi e sempre l'erica arborea come specie favorite e le mettiamo anche a confronto questi dati con quelle della telemetria altro protocollo che abbiamo messo in opera in pratica nella pianura orientale dove ci sono molti danni fatti agli agricoltori e dobbiamo intervenire adesso in questa zona per avere più dati precise sulla crescita della popolazione quindi abbiamo messo un'operazione per contare gli animali al faro di notte attraverso un percorso di 22 km che facciamo da 10 ore di sera fino a un'ora e mezzo a poco presto e adesso dopo tre anni possiamo iniziare ad avere un indicio di riproduzione e avere più dati precisi che il censimento al bramito per questa zona della pianura orientale ecco la database dopo i tre anni e i risultati di diverse operazioni e la media al livello dell'indicio chilometro siamo per il momento a 1 cervo 0.02 per l'indicio chilometrico dopo tre anni di conteggio e al livello dell'indicio di riproduzione siamo a un indicio medio di 0.63 quindi un indicio positivo dopo tre anni al livello della cattura e ricattura dei cervi per il momento è fatta prima la cattura e il marcaggio in recinti di allevamenti dopo i cervi sono liberati nella natura e facevamo la cattura di maniera visuale attraverso le fototrappole o attraverso i nostri binocolari e rileviamo per esempio la marcatura di certi animali questa femmina con il numero 0.63 è stata reintrodotta nel 2004 nel centro della Corsica e è sempre viva con diversi animali in compagnia e ha più di 22 anni dunque è la stessa cosa che per gli altri protocolli abbiamo una database per questo protocollo e tutte le osservazioni sono consegnate adesso siamo passati a un altro protocollo come la squadra di cattura di di Lucio e altri facciano da poi tanti anni proviamo di cattura di catturare questi cervi nella natura quindi abbiamo creato due ricinti uno al nord ma è più complicato di fare questa cattura perché c'è una competizione importante con il cignale quindi per il momento non è ancora un successo al livello della cattura in questa zona ma abbiamo fatto un secondo al centro della Corsica e non c'è competizione con altre specie quindi abbiamo più fortuna e ci sono più una densità anche di cervi più importante che permette veramente di fare diverse catture e quest'anno la settimana scorsa abbiamo catturato il primo cervo all'età naturale è qualcosa veramente di storico perché l'ultimo cervo catturato a livello naturale era stato fatto dal naturalista bufono al XVII secolo per noi con l'uso di un protocollo tecnico proprio è il primo cervo quindi veramente qualcosa di nuovo l'abbiamo fatto come voi vedete sull'immagine il 21 di febbraio quindi nel recinto c'è una fototrappola con il sistema GSM che manda direttamente a noi la fotografia questa femmina è entrata in compagnia di una bella lepre che per fare la festa l'abbiamo mangiato dopo e l'indomane e l'indomane sotto la neve perché c'era veramente condizione di meteo veramente difficile siamo intervenuti al settore di mane e abbiamo catturato questa femmina quindi abbiamo fatto le diverse misure biometriche e abbiamo fatto la marcatura ovviamente con due diverse marche per avere un monitoraggio preciso sul campo attraverso le nostre osservazioni e ovviamente abbiamo messo un radiocolaro anche a questo livello è il primo cervo catturato in natura monitorato da un sistema GPS potete vedere le prime dati di questa femmina che abbiamo chiamato l'IA e l'IA adesso è un'attività importante forse dopo la cattura e dopo si è riposata durante tre ore e appena dati vita nelle giorni dopo ma tutto si è passato veramente bene avete la stella blu questo è il recinto di cattura e avete i quattro primi punti dei due primi giorni di informazione per gli spostamenti di questa femmina ecco vi ringrazio per l'attenzione e adesso se avete altre domande ne possiamo parlare grazie grazie